Musica Indosserò un pantalone rosa con delle scarpe un po' colorate e poi un giubbone verde aperto senza t-shirt sotto quindi un po' di colori quest'anno Musica Abbiamo, penso dir, che abbia fatto di nuovo un grandissimo lavoro ha cercato di saltare di nuovo certi colori e speriamo che innanzitutto vada tutto bene e che questa nuova collezione possa piacere a tutti quanti La sua moda si avvicina molto al calcio e non solo al calcio ma anche a altri sport e quindi vuole sempre rafforzare questo binomio sport e moda che penso che sia qualcosa di molto bello Musica Musica The Lord Jesus Christ Himself Musica Musica Ismail FTV.com Musica 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 Musica